allora ragazzi riprendiamo un attimo la vicenda vannacci poi andiamo su la questione acerbi la vicenda vannacci è molto semplice oggi voi avete mai visto negli ultimi anni un libro presentato da esponenti diciamo così genericamente della sinistra e gente di destra fuori che lo contesta dice no vergogna 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 per cui oggi dov'è la libertà chi è che professa la libertà di espressione al massimo livello a sinistra o a destra ma chi se ne frega di quanto ha guadagnato merito suo se li ha guadagnati sarà stato bravo non facesse la vittima sul generale che c'entra la vittima io sto parlando di un'altra cosa sicuramente ci giocherà su questa roba qua a vicenza dove io andrò sabato insieme al generalissimo addirittura chi gestisce i biglietti dunque in cassa ha detto beh noi però noi però non siamo d'accordo con mannacci ma che cazzo dite ma che ve ne frega voi se siete d'accordo o no con mannacci si paga per vedere il generale 9 euro per vedere il generale ma che te ne frega se uno fa 9 euro per sentire un generale che dice che la egonu non è italiana ma se uno vuole pagare 9 euro per sentire queste fregnacce se uno vuole pagare 9 euro comunque è un genio mannacci è un genio mannacci è un parezzo che ce l'ha fatta perché si fa pagare 9 euro per dire queste fregnacce secondo me chi paga è un coglione ma non puoi dire così ma ci sono 500 persone al teatro di Vicenza 500 idioti che pagano 9 euro per sentirsi dire che lui in metropolitana a Parigi accarezzava le mani dei negretti ma questa è la tua semplificazione no è quello che c'è scritto in quel memorabile libro e sono sicuro che l'ottimo ospite che c'è qui in studio no secondo me è d'accordo con me secondo me no per niente sono sicuro che l'ottimo ospite che è qui in studio no secondo me è d'accordo con me ma dopo adesso vediamo c'è un'altra cosa assurda a parte il bollino antifascista cui chiederò subito alla persona che è qui io lo chiederò subito questa cosa qua ma gli antifascisti è come l'antimafia come certificato l'antimafia vogliono il bollino antifascista se uno deve affittare una sala pubblica ma di che cazzo parliamo allora facciamo che ne so faccio una dichiarazione contro la violenza sulle donne ma che cazzo vuol dire? Devo affittare una sala se esprimi i valori contro la Costituzione noi siamo ridotti in questo modo noi consentiamo a una scuola di interrompere le elezioni per il Ramadan che è la notizia del giorno su cui è intervenuta la Lega per carità il ministro di Tara e nello stesso tempo mettiamo in croce il povero platinette perché dice a una durante una trasmissione che c'è il culo basso siamo ridotti così non si può dire che una c'è il culo basso perché body shaming oddio ma ha detto che c'è il culo basso in televisione che manco si è sentito tra l'altro detto da uno che ha subito le peggiori discriminazioni del mondo il signor platinette se ne è sempre sbattuto dunque non è proprio uno sai che è il destroyed così capisci? e poi invece il Ramadan dobbiamo essere inclusivi Italo Bocchino di telettinettore editoriale del Second Italia buonasera 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 a questa bella compagnia madonna come siete incazzati e viva Italo uno bisogna che sia incazzato capisco che tu sei calmo sei col giacca e cravatta però ogni tanto ti incazzi pure tu elegantissimo cosa ti fa incazzare? il bollino antifascista ti fa incazzare o no? no mi fa incazzare tantissimo ma non perché è antifascista perché è l'atto più fascista che esista bravo bravissimo chiedere qualsiasi bollino bravissimo come l'antimafia dai come il certificato antimafia? è uguale il certificato antimafia non serve per fittare una sala e come no? certo il tema qual è? è che stiamo confondendo il politicamente corretto sta distruggendo prima la sinistra e poi con la sinistra l'Italia perché non è possibile ve la prendete con vannacci tu Parenzo te la prendi con vannacci tu pagheresti 9 euro sinceramente 9 euro per dire il generale 9 euro? assolutamente 9 non è vero intanto scusa le 500 persone che pagano 9 euro non stanno mettendo soldi in tasca al generale stanno autofinanziando una sala un evento per fare esprimere e lo pagasse il generale? per fare esprimere ma non è quello deve esprimere il suo pensiero il problema è che c'è una riduzione della libertà di pensiero ma dove? nei confronti della destra da parte della sinistra perché tu fai una presentazione di un libro e vengono a boicottare ma per carità la roccella va al salone del libro e non la vogliono far parlare e l'ho difesa e poi la Feltrinelli nasconde i libri del generale Vannacci venendo meno al proprio compito istituzionale che è divulgare la cultura anche quella che non condividi Parenzo ma ci mancherebbe altro devo dirti la verità guarda che veramente Cruciani ti sta dando una pista te lo dico sai quanto ti voglio bene ma ti sta dando una pista ma per forza perché ha capito qual è il momento dell'Italia ma hai liberato la bestia per forza la bestia è uscita ma è così io posso dire una cosa scusami Italo allora so che tu chiaramente 9 euro per vedere Vannacci hai preso giustamente le parti 9 euro ma sai che il Circo Togni ne costa 12 a me 12 euro ma è una libera scelta 15 se mai delle poltronissime è una libera scelta ma per vedere in generale ma guarda gli animalisti ti criticano perché si è andata al Circo Togni chi se ne frega e magari ci sono animalisti che vogliono ascoltare Vannacci siamo diversi rispetta le diversità ma rispetto tutto e dire a te che bisogna rispettare le diversità c'è qualcosa che non fa io non dico niente io dico anche fischiatemi io non ho mai però fatemi parlare quindi un fischio non ha mai ucciso nessuno perché Vannacci non può parlare ma chi ha detto che non deve parlare parlasse qualche fischietto col bollino antifascista qualche fischietto non fa male a nessuno ma deve parlare col bollino antifascista deve firmare la dichiarazione antifascista questo non c'è nulla di male ma che fischietto deve aspettare una rava quale articolo la costituzione è antifascista quale articolo e che male c'è tu giuri sulla repubblica tu sei stato deputato libertà di manifestazione del pensiero tu puoi dire ci mancherebbe altro quello che ti pare quello che ti pare allora il certificato antimafia serve perché certifica che tu azienda tu persona che prendi una sala non hai rapporti con la pubblica vuoi il certificato antifascista per i cicciadini certificato antimafia no vabbè Vannacci certificato antifascista hai vancato il rubicone certificato è come se tu quando vai a ospita la 7 quando vai a ospita la 7 da Lily Cooper dove vai spesso ti facessero firmare uguale ti facessero firmare all'ingresso un certificato antifascista lo firmeresti? no ma in nessun certificato neanche il certificato d'amicizia con Parenzo firmerei questo ti posso capire per esprimere liberalmente il mio pensiero esatto non mi faccio non mi faccio costringere a firmare nulla ma perché vannacci il vero diritto e la libertà di manifestazione del pensiero è quello che c'è sempre è solo quello ma ci mancherebbe altro c'è quello che cazzo gli pare e ma chi lo interrompe lo ha detto è piaciuto agli italiani ha venduto molti più libri l'hai letto Tulipo di Vannacci? no non l'hai letto ma tu lo poteresti se posso c'è anche la fiamma fratelli d'Italia c'era nel in allianza nazionale però io vedo il simbolo seguo il simbolo tu segui il simbolo seguo il simbolo e quindi le denominazioni però se ci fosse vannacci nel tuo collegio non lo voteresti perché voteresti fratelli d'Italia no voto il mio partito quindi non lo voterei ma detto questo non solo capisco chi lo vota ma trovo un'idea geniale quella di candidarlo nella Lega da parte di Salvini perché secondo me va a colpire la sinistra laddove è più debole cioè laddove si è esposta col politicamente corretto e quindi a che occuparsi dei poveri dei bisognosi eccetera si occupa dei problemi dei problemi da Tatarella a Vannacci da Tatarella a Vannacci sei passato dal grandissimo Tatarella a un generale Vannacci qualunque Vannacci io non voterò Vannacci da Tatarella a Vannacci no non voterò Vannacci ma difenderò tutti coloro che lo vogliono votare tu non li vuoi difendere lui considera degli imbecilli no tu li consideri dei subumani no dei subumani solo perché dei subumani dei subumani e questo è un grandissimo errore posso chiedere una cosa al mio amico Italo Bocchino ancora io sono sicuro che Italo Bocchino che ha girato il mondo che è una persona intelligente molto istruita eccetera quando sale sulle metropolitane di Parigi non accarezza le mani dei negri quando era bambino magari non accarezza da bambino io sono sicuro che Italo Bocchino non accarezzava le mani dei negretti io accarezzo le mani delle mie figlie delle mie donne basta però scusami ma accarezzo la polemica sulla parola negro ora non sappiamo quello che è successo adesso lo vedrai sui siti eccetera uno che ha detto la parola negro pare che non abbia detto né negro di merda né negro ma perché vi dovete attaccare a questo c'è un bellissimo libro Giuseppe che è la mutazione di Ricolfi che spiega la sinistra perché si sta impiccando proprio per fare la battaglia contro l'uso della parola negro ma scusa una persona scusa aspetta non è dispregiativo considera l'avete fatto diventare dispregiativo addirittura l'identità culturale c'erano dei gruppi nati in Francia sulla negritudine quindi non è proprio così il problema è un altro che si è fatto diventare una parola dispregiativa dal politicamente corretto ma scrivere i colfi rivolgendosi alla sinistra ma secondo voi chiamare una persona di colore anziché negro e poi lasciarlo vivere nell'indigenza è una cosa figa non è meglio anziché occuparsi della denominazione occuparsi di come fare in modo che abbia delle condizioni paritarie rispetto agli altri entrambe le cose ma qual è prioritaria per te la sussistenza il fatto che abbiano da vivere quindi secondo te è meglio uno trattato bene chiamato negro o uno trattato male chiamato di colore ma che razza di alternativa è e no dimmi spiegalo assolviamo sto acerbi o no lo assolviamo sto acerbi uno della nazionale un bravo ragazzo io lo conosco personalmente dice di non ho mai detto una frase razzista cacciato dalla nazionale disca 10 giorni ma guarda la wikipedia guarda la treccani la treccani la treccani influenzata anche quella da politicamente corretto certo assolutamente è chiaro che l'influenza del politicamente corretto ormai è arrivato ovunque anche io se dicessi la parola negro che non uso se la dicessi a capo la calza mia le mie figlie si alzerebbero bravo perché sei educato pur essendo di destra perché sei civile sei borghese per questo no no perché si è fatta la battaglia perché sei una brava persona perché si è fatta la battaglia per il politicamente corretto per far valere di più la persona ma vedi che anche le tue figlie si indignerebbero cioè lo spazzino lo chiami operatore ecologico e non è che hai migliorato le sue condizioni di vita però non l'hai trattato l'handicappato lo chiami diversamente abile sono tutte tesi di ricolfio non sto stando fuori niente al mio sacco e quindi ma che certo è condivido la sinistra si sta impiccando con questo ma i comunisti esistono ancora secondo te sì certo ma dove Parenzo è comunista no 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 Parenzo non è radical chic progressista è un aspirante radical chic aspirante addirittura aspirante criptopoliticamente corretto scusami ma adesso siamo arrivati alla follia dimmi tu salviamo il soldato platinette che ha detto si è dovuto scusare per non perdere il lavoro ha detto a una c'è il culo basso uno può dire allora ti dico subito Giuseppe se uno evita è meglio ma si parlava di corpi si parlava tra l'altro di corpi e di modelle impiccarle è una cazzata dai su impiccarle è una cazzata però se uno evita è meglio ma d'accordo ma non è che uno si deve chiedere uno deve chiedere scusa perché sennò perdi il lavoro questo è gravissimo questo è gravissimo però il garbo ci sta perché comunista hanno ammazzato pure i fascisti o no nella storia nella storia sicuramente voglio dire è storicamente provato che dal punto di vista numerico sono stati più i morti vittime del comunismo ma perché i comunisti italiani sono stati hanno scritto la costituzione è tutto qua il comunismo italiano è stata un'altra roba però erano alleati di quelli che ammazzavano in Italia hanno firmato i comunisti italiani non volevano una costituzione italiana volevano una costituzione bolshevica è diverso loro volevano l'unione sovietica ha fatto anche l'amnistia ai fascisti si chiama Balmiro Togliatti l'altro si chiama Terracini entrambi hanno firmato la costituzione l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa della scuola del ramadan adesso va bene tutto va bene tutto però non è che uno può concedere due giorni finali del ramadan ma io sono d'accordissimo invece ogni scuola islamica che fa anche la Pasqua non sono mai islamica ogni scuola per ogni scuola islamica che chiuderà per la Pasqua cattolica noi chiuderemo una scuola tu dici una rabbia saudita ma non esistono le scuole appena chiude una scuola in un paese islamico una scuola islamica chiude per la Pasqua in base al principio di reciprocanza noi chiuderemo per il ramadan una nostra scuola ma che male c'è ma perché dobbiamo metterci proni rispetto a certi atteggiamenti ma perché proni è una questione società multietnica questo è molto semplice questo ci divide caro Italo il problema è che prima della società multietnica esiste la cultura di riferimento esistono le tradizioni ma che male c'è esiste il nostro modello di società esiste il nostro modello di famiglia esistono i nostri valori che vengono dalla cultura cristiana ma tu lo sai perché la domenica non lavori tu lo sai perché la domenica non vai in onda ma certo perché in Italia la domenica è il giorno di festa tu perché in onda vai il venerdì e non ci vai la domenica perché del venerdì a te non te ne frega niente il giorno del ramadan però ad esempio la vacanza è il sabato ma non è che se tutti facessero così sarebbe un inferno noi siamo figli di quella cultura non puoi negarlo allora in questa scuola qua a Pioltello il 60% sono diciamo italiani di cultura di altra cultura il 43% no il 43% sono islamici allora tu dimmi perché a scuola quelli là devi farli sobbarcare i genitori per due giorni in quei due giorni della fine del ramadan che è ad aprile lontano dalla Pasqua e invece devi dare ragione a quel 40% ma no ma io scusa io giustificherei i ragazzi che non possono andare per il ramadan appunto ma non chiuderai la scuola giustificherei e poi recuperano le ore risulterebbero assenti perché non c'è un'intesa gli fai un giorno gli fai un recupero di quelle ore che hanno perso e gli risolvi il problema ma non mi piego all'ideologia bravo Italo Bocchino grazie non gli hai chiesto non abbiamo chiesto nulla di Santino fino al 14 aprile grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti